Ecco alcune idee per un menù a base di pesce con le ricette più apprezzate. Per gli antipasti, ricette video ti consiglia Alici marinate Bruschetta alla marinara Come per tutti gli aperitivi, va benissimo un brut ghiacciato. Due ottimi primi Risotto agli scampi Spaghetti con le cozze Puoi abbinare a entrambi un Müller-Turgao Alto Adige. Passiamo ai secondi Branzino al cartoccio Sogliola al prezzemolo e mandorle Con questi piatti, ottimo un vermentino di Sardegna. Con un menù a base di pesce, le zucchine sono ottime Quindi, zucchine grigliate Zucchine ripiene Come dolce, ho un'unica proposta Sorbetto al limone Perfetto per rinfrescare la bocca E per digerire Buon appetito E al prossimo video